bella regà allora mi scuso ma davvero tanto per i ragazzi che volevano partecipare all'evento del deluxo ragazzi perchè può venire bene comunque sia una giunta di 50 deluxo può venire veramente bene alla gente ma mi sono rotto i coglioni che come al solito i bimbi napoletani ok? perchè è così perchè ragazzi c'ho 2000 iscritti ok? 2000 c'ho 2k di iscritti fatti in un anno ieri ok? e non capisco cosa ci vanno a guadagnare a rompere i coglioni alla gente ma il problema è sempre quello raga io con 2k di iscritti ho avuto problemi solo con gente di Napoli e per me è un male perchè io arrivo proprio da Torri del Greco ce lo capite? quindi mi viene proprio il nervoso si offendono si incazzano e si offendono perchè? perchè dico che i bimbi napoletani sono delle teste di minchia che rovinano quella città e che per colpa di questa gente viene sempre poi degradata il fatto poi anche è questo che io per fare una giunta ragazzi io perdo del tempo io per fare una giunta di 50 macchine io perdo 2-3 ore della mia vita capito? per cosa? per fare un piacere a voi e questo è ringraziamento assolutamente non ci penso neanche se qualcuno ha bisogno ok? di una giunta dell'Axo o qualcosa del genere mo paga non me ne frega un cazzo chi vuole le macchine modate se le va a cercare altrove o quando le faccio le posto qualcuno andate da quel tizio lì a me non me ne frega più niente ragazzi cioè io non ci campo con voi per me il canale si chiude non mi interessa non è il mio lavoro è un hobby è un divertimento ok? quindi raga arrivati a questo punto andate a ringraziare questa gente perchè se siete amici loro non meritano neanche di essere vostri amici perchè cosa fanno? vi fanno perdere la possibilità di guadagnare giocando in un gioco questa gente merita solo di stare da sola e basta cosa devo dire ragazzi? comunque mi dispiace veramente tanto per voi per la giunta dell'Axo ma io non farò più eventi raga se mi andrà di regalare qualcosa lo farò solo a chi se lo merita a chi mi fa piacere come ho sempre fatto ok? mi dispiace ma da oggi sarà così ragazzi e non risponderò neanche più a tutti risponderò solo a chi sarà educato non me ne frega più niente ragazzi se mi volete seguire il canale sapete dov'è se non mi volete seguire potete andarvene a fare in culo bella raga alla prossima sbadabam ciao a tutti Grazie a tutti